Io penso che Mangiati Vivi, il soggetto, è l'inspirazione del massacro a Jonestown negli ultimi anni degli anni 70. Allora, la storia di Mangiati Vivi in effetti mi è stata ispirata dal caso famoso del reverendo Jones, un americano che dirigeva una setta in un paese dell'America Latina, non ricordo se Columbia, Venezuela, comunque era una setta tra il cristiano e l'esoterico, ci fu uno scandalo perché si uccisero, si suicidarono circa 200 persone, questo mi ha dato lo spunto per un film che in effetti avrebbe dovuto essere però un film di cannibali, pure semplice, io però non volevo giocare tutta la storia sull'argomento cannibalico, per cui il centro della storia è questo proprio del reverendo Jones e della setta che praticamente strumentalizza delle persone, poi la ragazza americana cerca la sorella che fa parte della setta, un film che noi abbiamo girato tutto ed esclusivamente nell'interno dell'isola di Sri Lanka, di Ceylon, Candy, in una situazione molto molto difficile perché vi erano dei serpenti cobra, degli animali molto selvaggi, degli insetti mortali, scorpioni neri, fu una lavorazione molto difficile, però il film ha avuto un successo strepitoso soprattutto per la famosa scena che penso il pubblico ricorderà dell'attrice italiana, Paola Senatore, che viene squartata e mangiata viva, ancora viva dai cannibali, una scena che ha avuto degli effetti speciali particolari perché oltretutto è stata girata tutta in studio e non nella giungla vera perché era molto difficile per gli effetti speciali. E tu ricordi che un grande parte ha girato negli studio? No, nello studio abbiamo girato soltanto l'uccisione della ragazza, la ragazza e qualche scena di notturna di sosta nell'accampamento, quando i protagonisti dormono, basta. Poi tutto il resto è trassogirato dal vero, è un film che ha avuto molto successo, però non tanto quanto Cannibal Ferox, il film che fece subito dopo. In tutti i tuoi film nel genere Cannibali la violenza ha un'importanza sessuale, per esempio i violenzi cannibali su Gianna Tagren e su Paolo Senatore nel Mangiati Vivi. Guarda, la situazione riguardo al film cannibalico, il film diciamo di exploitation su questi riti che è nata principalmente da un'esperienza che ho avuto con un film precedente che si chiamava The Man from the Deep River, il paese del sesso selvaggio, che poi ha avuto alti titoli negli Stati Uniti e è uscito anche con un titolo Sacrifice. Venivano queste scene riprese su dei riti veri, autentici, che c'erano stati spiegati da un antropologo del posto e anche per esempio in il paese del sesso selvaggio, The Man from the Deep River, venivano proprio spiegati da una persona che aveva vissuto in mezzo alle tribù in Bermania per tanti anni, quindi partivano sempre da una verità, d'altra parte se si pensa che ancora in una democrazia occidentale qui in Europa o nell'America Latina si continuano ad esercitare azioni di tortura sui prigionieri politici etc., non è da meravigliarsi poi che ci sia qualche azione di violenza ambientata tra le tribù selvagge, principalmente ho voluto dimostrare che questa violenza sulle persone, non si tratta solo di violenza sessuale, ma di violenza proprio, uccisioni, mutilazioni, è determinata soprattutto da una lunga storia di politica, di occupazione del terzo mondo, di sfruttamento delle tribù, dei selvaggi, come si evince in modo assoluto dalla storia, dal plot del film Cannibal Ferox. Cannibal Ferox è una storia in cui alcuni bianchi, drovati, cattivi, estremamente spregiudicati approfittano dell'ingenuità, del fatto che queste tribù all'interno della mazione sono indifese, sono costituite da gente primitiva, incapace di difendersi, per sfruttarli, per opprimerli, addirittura per perseguitarli in modo disumano. Ovviamente c'è una ritorzione, c'è un contraccolpo, c'è una reazione e quindi i selvaggi poi diventano la loro furia primitiva, si scatena come vendetta e quindi poi fanno quello che fanno. È una scena di morte di Mimilei, l'attrice burmese, ma nel un film negli anni precedenti che si chiama Ultimo mondo Cannibili, le stesse scene ha fatto un'apparizione in questo film, tu aggiravi la tua stessa versione della morte di Mimilei? Sarebbe troppo lungo a spiegare, la morte di Mimilei l'ho girata, soltanto c'era una brevissima inquadratura del corpo che viene bruciato, della testa che viene bruciata, siccome esisteva in un film precedente prodotto da un mio caro amico e quindi mi sono fatto dare il pezzo e l'ho inserito nel film, ma si tratta di una scena che dura un metro e mezzo, non di più, un metro e mezzo, una frazione di secondo, si vede questa testa che brucia e basta. Tutto questo che riguarda Mimilei e questo che riguarda i Cannibali, i film di Cannibali, viene soltanto dal mio film, tengo a precisarlo, anche se l'ho dichiarato sempre nelle interviste, viene dal mio film The Man from the Deep River, tutto il resto che ha fatto, il film dopo che ha fatto un mio collega è perché io ho rifiutato di farli, perché ho rifiutato di farli e siccome il produttore, voglio precisare questo, il produttore aveva venduto in tutto il mondo questo seguito, questo episodio 2 con il mio nome e col nome di Mimilei e dell'attore Ivar Rassimo, aveva stato costretto dopo il mio rifiuto perlomeno a prendere i due attori, altrimenti gli avrebbero contestato le vendite in tutto il mondo, quindi la persona che dice che ho preso i suoi film ha fatto questi film solo per merito mio, è chiaro o non ho spiegato bene? Sì, molto chiaro. Ancora è una scena strana con Janet Agren che è tutto in oro, tutto nudo e tutto in oro, ma perché? Perché è un rito, è un rito che nelle tribù vere della Nuova Guinea esiste tuttora, cioè quando una donna, specialmente una donna bianca, capita in una tribù, secondo il rito tribale viene dichiarata regina della tribù, cospargendola di oro, però deve essere una donna bianca, questo è uno dei tanti riti che ho filmato dopo aver fatto un'inchiesta sulle tradizioni, sul folclore e sulla ritualità di queste tribù, sia della Nuova Guinea che del confine tra Birmania e Thailandia, dove ancora sussistono delle tribù selvagge che praticano cannibalismo, perché il cannibalismo esiste tutt'oggi, anche se non se ne parlano sui giornali o non si vede in televisione, in queste tribù che esistono tra il confine della Thailandia e della Birmania è normale che quando si combattono fra tribù ostili, l'uomo che uccide un nemico lo squarti e ne mangia il cuore, capito? Questa è una delle tante, per cui noi abbiamo filmato sempre basandoci su una certa etnografia sperimentata in loco. Allora, io dico il nome degli attori e delle attrici, se tu hai un ricordo degli attori, allora, di Robert Kerman? Mediocre. Giannis Agran? Ottima, bellissima e brava, è una mia amica, vero Olga? Paolo Senatore? È diventata una famosissima porno star, lo sapevi questo? Sì. Non è che io potevo pensare che sarebbe diventata una porno star, ma anche se l'avessi pensato l'avrei presa lo stesso perché era brava, era adatta a fare quella parte e soprattutto non aveva dei pudori per fare certe scene in mezzo alla giunga, come quando viene sodomizzata da un selvaggio, è difficile trovare un'attrice che riesca a farlo dal velo in mezzo alla giunga con tutti i selvaggi intorno, va bene. Poi? Mimilai? Mimilai ha fatto due film con me, nel cinema nasce con me per quel famoso film The Man from the Rip River, quindi ho un buon ricordo di lei, moltissimo. E finalmente Ivan Razimov? Ivan Razimov è un mio amico, ha fatto tantissimi film come Roma a mano armata, L'uomo dei fiumi profondi e poi squadra selvaggia, quindi non vale la pena di parlarne, è un bravo attore ma è un amico. Ecco, Domenico, il grande attore americano, Mel Ferrer. Ah, Mel Ferrer, abbiamo già fatto un film insieme che era incubo sulla città contaminata, The City of the Walking Dead, Mel Ferrer è una star, è una star, è un grande, ha avuto dei momenti proprio di top nella sua carriera, come per esempio War and Peace, il film di King Vidor, è un grande attore, lo ricordo con molto affetto. Nel film Mangiati Vivi e l'altro Cannibal Ferox, la trama è così un disco, la musica di Budi Maglioni, la Maglioni che poi si chiama Fiamma Maglioni, era una ragazza, nostra amica, molto brava che faceva musica così, l'ha scritta lei con un'altra persona, ma dice se è disco music, non ho capito. Come musica? No, no, è musica creata, creata da lei e dall'altro suo collega, incisa. Ti dirò di più che il film Cannibal Ferox è stato comprato da Sage Stallone, il figlio di Sylvester Stallone, che ne ha fatto un'edizione in DVD per gli Stati Uniti e tutta la musica originale del film, lui l'ha rifatta, rincisa in America, a Los Angeles e rimessa però tale quale come stava, con un'orchestrazione diversa, perché è una musica molto bella, molto efficace. Non so se si ricorda Fiamma Maglioni che ha scritto la musica, che è la moglie di Loy. No, allora era la moglie di Loy, poi hanno divorziato, ora non sono più insieme. Fa anche una parte nel film lei, in Cannibal Ferox, fa un ruolo, fa l'amica del protagonista che lo ricerca, che va con l'aereo nella giunga, è lei. Finalmente, dalle tutti i tuoi film Cannibale, che è il tuo favorito e che sono i tuoi pensieri sul film Mangiati Vivi oggi? Il mio film favorito, De Genere Cannibalico, nessuno, perché io sono più conosciuto per altri film, per film di action movie e per war movie. Questi film li ho fatti bene e li considero anche dei film buoni, però non sono i miei preferiti, per cui l'uno vale l'altro. Sul piano del successo internazionale e dell'impatto che ha avuto su tutto il pubblico nel mondo, direi Cannibal Ferox. Cannibal Ferox è stato vietato in 23 paesi. 23 paesi, però ha avuto poi sempre un successo strepitoso perché vietare un film spesso si risolve in un forte lancio pubblicitario sul film, basta ricordare il film di Bertolucci L'ultimo tango a Parigi, che in Italia per ordine dei giudici è stato addirittura bruciato, però una copia si era salvata e poi dopo tanti anni è ritornato sugli schermi, è rimasto un film di calz.